E siamo arrivati al bar Pasticceria Enigma dove è stato venduto uno dei biglietti vincenti da 100.000 euro della Lotteria Italia. Le telecamere di Donatello Ricci ci portano all'interno del bar. Andiamo a vedere che aria tira questa mattina. È una bella giornata al bar Pasticceria Enigma a Colle di Preturo. Ieri pomeriggio si è diffusa la notizia della vincita di 100.000 euro con un biglietto di seconda categoria della Lotteria Italia venduto proprio nel bar del paese. E tra eronie e festeggiamenti le telecamere di Rete 8 sono andate a vedere che atmosfera c'è nel bar dopo la notizia e la caccia alla ricevitoria fortunata ieri che è durata per un bel po'. La signora Teresa Medoro, titolare del bar, è al banco come ogni giorno. Felice e speranzosa che la vincita sia andata a qualcuno che ne aveva bisogno. Nessuno si è fatto vivo al momento ed è stata anche una fatica a vendere i tagliandi, spiega. Nessuno li voleva. Alla fine ne ha venduti una ventina. Spero invece che controllino i biglietti perché speriamo che sia andata a finire a uno della zona, che ne abbia bisogno e che principalmente li controlli perché in genere si tende a metterli da parte. Visto che ho fatto tanta fatica per venderli e quindi speriamo che la cosa vada in porto e sia andata a una persona che ne ha bisogno e ne faccia un buon uso. Non li voleva nessuno questi biglietti? Quanti ne ha venduti? Venti, il minimo indispensabile che mi obbligano a prendere e quindi nessuno, perché nessuno più ci credeva e di conseguenza questa è stata una rivalutazione. Quindi speriamo che quest'altra non diventerne di più e magari che la fortuna ci baci ancora o più piccola o più grande. Noi stiamo qui. Lei non si era accorta subito di avere il biglietto vincente? No, assolutamente no. È stato un cliente che ieri mattina mi ha telefonato e mi ha detto guarda la serie che ha vinto è quella tua. Dico ma guarda non credere, magari è il numero dopo che è uscito dalla mia serie e quindi non l'ho controllato subito. Nel pomeriggio ho controllato e lì mi sono accorta che c'era veramente. Probabilmente il fortunato o la fortunata è del posto del progetto case perché il bar non è di passaggio, è una clientela ben nota ma sono soltanto ipotesi. Al bar questa mattina non si parla d'altro tra le battute dei clienti e i caffè per tutti e c'è chi prova a ipotizzare cosa farebbe con i 100.000 euro. Non è che ha vinto lei 100.000 euro? Sì magari, magari. Non sarebbe qui, che cosa ci farebbe? Boh non lo so, guarda. 100.000 euro, a parte che non so niente, ci comprerei un po' di pecore. Alla grande, la civiltà contadina. Contadino, contadino. Alla grande, la civiltà contadino.